L'audace cerignola è crollato nel pomeriggio di Trapani. Al provinciale gli ofantini si sono arresi con un pesante 5-1 alla squadra di Salvatore Aronica. Una partita senza storia in cui la compagine gialloblu era già sotto di tre reti alla fine del primo tempo. I siciliani sono passati al settimo grazie alla rete di Silvestri. Nove minuti più tardi poi è arrivato anche il bis siglato da Bifurco e infine il 3-0 è giunto al 38esimo con la seconda rete in campionato di Maget Fall. Una versione riconoscibile da parte della squadra di Raffaele per la quale il copione non è cambiato neppure a inizio ripresa. Nonostante l'innesto di forze fresche Mazza, Fagioli e Bianchini è stato il Trapani ad andare ancora a segno con il capocannoniere del girone Cifacundo Lescan al terzo minuto. La ciliegina sulla torta di un pomeriggio perfetto per la formazione di Aronica nell'ultimo quarto d'ora poi è arrivata prima la rete di Mazza e poi nel finale quella di Celiento che hanno definito il punteggio di 5-1. Una battuta di arresto pesante per Salvemini e compagni. L'audace prima della sfida con il Trapani aveva subito 5 gol nelle prime 9 partite. Al provinciale ha subito le stesse reti in 90 minuti. Sicuramente in settimana ci saranno diverse cose da rivedere per ripresentarsi in una versione totalmente diversa nella gara del Monterisi contro il Picerno.